Siamo con Rodolfo Zirio, direttore del torneo di quest... Ti ho salutato. Siamo con Rodolfo Zirio... Questa la montiamo dopo. Fermo lì, tu quasi che ti fa male fumare. Siamo con Rodolfo Zirio, direttore di torneo di questa terza tappa del PPT qui al Casino Portomaso di Malta. Rodolfo, come sta andando? Sta... Siamo con Rodolfo Zirio, direttore di torneo di questa terza tappa del PPT qui al Casino Portomaso di Malta. Rodolfo, come sta andando? Sta andando benissimo, come d'aspettative. Ci aspettavano circa... Ancorabanei Acorabanei Siamo con Rodolfo Zirio... Nocora...